Ora la Lombardia in netto aumento rispetto a ieri, poi Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna, segno meno in Campania dove cala l'incremento giornaliero dei contagiati. E scende il livello di rischio di otto regioni e una provincia, solo l'Abruzzo rimane zona rossa, invariate le altre. Felicità Pistigli. La mappa dell'Italia a tre colori descrive una situazione che inizia a migliorare l'Abruzzo, l'unica regione che resta in zona rossa, mentre si allentano le restrizioni in Valle d'Aosta, provincia autonoma di Bolzano, Toscana e Campania, che escono dall'area di rischio più alto per diventare arancioni. Entrano in zona gialla Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Umbria e Puglia. Le ordinanze del Ministro della Salute, che ridisegnano così la geografia del rischio, saranno in vigore da domenica. Non cambia la situazione nel resto del paese. L'impatto delle misure adottate fin qui si riflette sull'indice di trasmissione RT, che seppur di poco scende a livello nazionale sotto l'Uno. Solo in cinque regioni, Veneto, Toscana, Lazio, Molise e Calabria, riferisce il report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità, continua a essere più alto. Siamo in una situazione certamente di miglioramento, ma di assoluta grande attenzione. Il numero di 20.000 casi al giorno, segnalati, è un numero ancora molto alto. E poi c'è la pressione sugli ospedali, altro parametro dell'emergenza in gran parte del paese. I ricoveri, anche quelli in terapia intensiva, sono ancora oltre la soglia di credibilità. Grazie a tutti.